Salve a tutti amici di Amazon, piccolo unboxing, velocissimo, di un rasoio della Barber Boss Ok, vediamo quale dei due ho catturato, perché appunto ne possiedo due Ok, ho preso quello che parla già da sé Quindi io non ho tempo da perdere, quindi non so se riesco a farvi vedere come è ridotta la lama Ok, vedete? Questo è come mi è arrivato Quindi sinceramente io non andrei neanche a perderci in chiacchiere Ok Quindi probabilmente l'hanno montato male o non so cosa, comunque è leggermente inutilizzabile Lui per carità funziona, però vedete anche voi che non si può utilizzare un rasoio in queste condizioni Ok È proprio la lama storta Vedete che qua c'è tipo due millimetri di posto e qua invece è appoggiata Ok, totalmente storta Ecco, quindi non mi dilungo in altro In dotazione avete tre pettini Avete un cavo di ricarica per giunta micro usb, quindi antiquato Micro usb, lubrificante e un bruschettino Ecco, questo è il tutto della confezione Però non mi dilungo in altro, è un prodotto danneggiato che va appunto preso e rimborsato o sostituito Poi 14 euro il prezzo, ripeto, i 14 euro che costa questo rasoio si sentono perché è molto leggero Adesso da come si vede anche come l'hanno confezionato e tutto Non promette nulla di buono ecco Spero che questo Pessimo, cioè con questo unboxing Con un riscontro pessimo Vi sia stato d'aiuto Io sono sempre Thomas Il vostro caro amico di Amazon Ciao a tutti